Oggi siamo qui per parlare di un argomento che interessa molti di voi. Come fare crescere i muscoli in modo naturale. Se desiderate ottenere una muscolatura tonica e definita senza ricorrere a sostanze chimiche o metodi poco salutari, siete nel posto giusto. Benvenuti al nostro canale salute e longevità. Investi nella tua salute oggi per godere della tua longevità domani. Migliora la tua salute, migliora la tua vita, condividi con noi il tuo percorso. Nel corso di questo video, condivideremo con voi i migliori suggerimenti e trucchi per favorire la crescita muscolare in modo sano ed efficace. Quindi, preparatevi a scoprire i segreti per ottenere il corpo che avete sempre desiderato. Pronti? Iniziamo! Sezione numero 1, nutrizione adeguata per la crescita muscolare. Suggerimento numero 1, cominciamo con l'aspetto fondamentale della nutrizione. Per far crescere i muscoli in modo naturale, è necessario fornire al corpo i nutrienti giusti. Uno dei nutrienti chiave per la crescita muscolare sono le proteine di alta qualità. Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella sintesi proteica e nella riparazione muscolare. Durante l'allenamento, le fibre muscolari subiscono microlesioni che richiedono un processo di riparazione e ricostruzione. Le proteine forniscono gli amminoacidi necessari per questo processo, favorendo la crescita e il recupero muscolare. È importante assicurarsi di consumare una quantità adeguata di proteine di alta qualità nella dieta. Alcune fonti eccellenti di proteine includono carni magre come pollo, tacchino, manzo e maiale. Le uova sono un'altra opzione nutriente, in quanto contengono proteine di alta qualità e una gamma completa di amminoacidi essenziali. Anche i latticini, come latte, yogurt greco e formaggi, possono essere una fonte di proteine ad alto valore biologico. Assicuratevi di scegliere opzioni a basso contenuto di grassi per evitare l'eccesso di calorie. Suggerimento numero 2. Non dimenticate di includere carboidrati complessi nella vostra dieta, come cereali integrali, patate dolci e legumi. I carboidrati forniscono l'energia necessaria per sostenere gli allenamenti intensi e favorire la crescita muscolare. Suggerimento numero 3. Non trascurate gli acidi grassi sani, come quelli presenti in alimenti come avocado, noci e semi. Gli acidi grassi essenziali contribuiscono alla salute generale e alla funzione muscolare ottimale. Il pesce, come salmone, tonno e merluzzo, è anche una fonte ricca di proteine e acidi grassi omega 3, benefici per la salute. Prima di mostrarti i suggerimenti per un allenamento mirato alla crescita muscolare, saremmo molto grati se potessi mettere un mi piace, e iscriverti al nostro canale per non perdere nemmeno uno dei nostri prossimi video. In questo modo, potremo continuare a fornirti informazioni e consigli su come migliorare la tua salute e la qualità di vita. Inoltre, se conosci qualcuno che potrebbe trarre beneficio da questi consigli, ti preghiamo di condividere il nostro canale con loro. Sezione numero 2. Allenamento mirato per la crescita muscolare. Suggerimento numero 1. Oltre a una corretta alimentazione, l'allenamento mirato è fondamentale per stimolare la crescita muscolare in modo ottimale. Concentrarsi su determinati tipi di allenamento può favorire notevolmente lo sviluppo muscolare e l'aumento della forza. Ecco alcuni punti chiave da tenere presente riguardo a questo argomento. Sollevamento pesi, l'allenamento con i pesi, come l'utilizzo di manubri, bilancieri o macchine pesanti, è uno dei metodi più efficaci per stimolare la crescita muscolare. Questo tipo di allenamento crea una tensione diretta sulle fibre muscolari, causando microlesioni che, durante il processo di recupero, portano alla ricostruzione e alla crescita dei muscoli. Bodyweight training, l'allenamento con il proprio peso corporeo. L'allenamento attraverso esercizi a corpo libero, push-up, squat e affondi, può essere altrettanto efficace nel favorire la crescita muscolare. Questo tipo di allenamento sfrutta il peso del corpo come resistenza, impegnando diversi gruppi muscolari contemporaneamente e promuovendo una buona forma fisica generale. Allenamenti ad alta intensità Gli allenamenti ad alta intensità, come l'allenamento a intervalli o l'allenamento ad alta intensità con i pesi, sono particolarmente efficaci per stimolare la crescita muscolare. Questi allenamenti prevedono brevi periodi di lavoro ad alta intensità seguiti da periodi di recupero attivo. Questa forma di allenamento stimola il metabolismo, promuove la produzione di ormoni anabolici e crea un ambiente favorevole alla crescita muscolare. Suggerimento numero 2 Variate gli esercizi e le modalità di allenamento per stimolare continuamente i muscoli. L'introduzione di nuovi stimoli aiuterà a prevenire l'adattamento e a favorire una crescita costante. Suggerimento numero 3 Non dimenticate di dedicare tempo al recupero. Il tempo di recupero tra le serie durante l'allenamento per l'aumento muscolare può variare in base a diversi fattori, tra cui l'intensità dell'allenamento, il volume di lavoro e la tua capacità di recupero individuale. Tuttavia, generalmente si consiglia di prendere un periodo di recupero compreso tra 1 e 3 minuti tra le serie di esercizi per la crescita muscolare. Sezione numero 3 Integrazione per la crescita muscolare Suggerimento numero 1 Sebbene sia possibile ottenere risultati significativi solo con una dieta adeguata e un allenamento mirato, l'integrazione può essere un valido supporto. Considerate di assumere integratori come proteine in polvere, aminoacidi ramificati e creatina. Questi integratori possono contribuire a ottimizzare la sintesi proteica, migliorare la riparazione muscolare e aumentare la forza. Suggerimento numero 2 Prima di iniziare qualsiasi tipo di integrazione, consultate sempre un professionista della salute o un dietista per determinare le vostre esigenze specifiche e assicurarsi che gli integratori siano adatti a voi. Sezione numero 4 Riposo e gestione dello stress Suggerimento numero 1 Non sottovalutate l'importanza del riposo e della gestione dello stress nella crescita muscolare. Durante il sonno, il corpo rilascia ormoni cruciali per il recupero e la crescita muscolare. Assicuratevi di dormire almeno 7 a 8 ore di sonno di qualità ogni notte. Suggerimento numero 2 Praticate tecniche di gestione dello stress, come la meditazione, lo yoga o semplici attività rilassanti. Lo stress cronico può influire negativamente sui livelli di ormoni anabolici e ostacolare la crescita muscolare. Sezione numero 5 Consapevolezza del proprio corpo Suggerimento numero 1 Ascoltate il vostro corpo e dategli il tempo di adattarsi e crescere. Ogni individuo ha un ritmo di crescita muscolare diverso, quindi non confrontatevi con gli altri. Concentratevi sui vostri progressi personali e siate costanti nel vostro impegno. Suggerimento numero 2 Tenete un diario di allenamento per monitorare i vostri progressi, sia in termini di forza che di dimensioni muscolari. Questo vi aiuterà a tracciare i miglioramenti e a regolare il vostro allenamento e la vostra alimentazione di conseguenza. In conclusione, questi sono i consigli e i segreti per ottenere una crescita muscolare naturale. Tenete presente che costruire muscoli richiede tempo, dedizione e perseveranza. Evitate di cercare vie brevi o soluzioni rapide, ma concentratevi su uno stile di vita sano e sostenibile. Se avete trovato utili questi consigli, assicuratevi di metterli in pratica e condividere questo video con coloro che potrebbero trarne beneficio. Iscrivetevi al nostro canale Salute e Longevità per ulteriori video su come migliorare la vostra salute e il vostro benessere. Ci vediamo al prossimo video. Mantenete il focus e continuate a lavorare per raggiungere i vostri obiettivi. La salute è la base di una vita piena. Con noi impara come costruirla. La salute è la base di una vita piena. Con noi impara come costruire i vostri obiettivi. La salute è la base di una vita piena. Con noi impara come costruire i vostri obiettivi.